L'Europa è pronta per la rivoluzione verde, parola di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che il 14 luglio ha presentato Fit for 55 per ridurre del 55% le emissioni nette di CO2 entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. È una tabella di marcia ambiziosa che impone agli Stati membri dell'Unione una profonda ristrutturazione industriale ed economica. Il pacchetto si compone di 12 proposte per numerosi settori, dall'industria all'energia, dall'agricoltura alle importazioni da paesi terzi e all'intero sistema di trasporti, che da solo rappresenta un quarto di tutte le emissioni prodotte dai 27. Al centro delle misure c'è il cosiddetto ETS, o sistema di scambio di quote di emissione, basato sul semplice principio «chi inquina di più, paga di più». La metà delle entrate generate dall'ETS servirà a finanziare un fondo sociale per il clima, per sostenere le persone economicamente in difficoltà e compensare i lavoratori interessati dalla chiusura di settori industriali ad alta intensità di carbonio. La Commissione propone anche di fissare una data definitiva, possibilmente il 2035, entro la quale i motori diesel o benzina non potranno più essere immessi sul mercato. E non è tutto. Dopo anni di resistenze, la Commissione propone di istituire una carbon tax alle frontiere europee per i paesi che non rispettano gli standard ambientali dell'Unione. Una misura che avrà profonde ripercussioni geopolitiche, con evidenti conseguenze sul piano delle relazioni con la Cina, tra i primi inquinatori al mondo, ma anche con paesi produttori ed esportatori di combustibili fossili, Stati Uniti inclusi. Obiettivo finale del Green Deal europeo è trasformare il volto del vecchio continente, rendendo l'Europa il motore della transizione energetica a livello globale e uno standard a cui tutti i paesi devono uniformarsi. Una grande scommessa che avrà un profondo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini europei, ma se sarà vinta, l'Europa diventerà il primo continente a impatto zero entro il 2050. Pronti per la rivoluzione verde?